Il seme era stato interrato nei giorni che hanno preceduto il voto del 25 settembre scorso. Adesso da quel seme è spuntato una piantina che nei prossimi mesi promette di fortificarsi. Prenderà il via domani con un incontro che si terrà nell'auditorium del Palazzo della Cultura di Catania, il seminario di formazione all'impegno sociale e politico promosso dall'Arce Diocesi di Catania, Ufficio per i Problemi Sociali, il Lavoro e Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali. L'antefatto, il documento non possiamo tacere, redatto da un gruppo di laici cattolici dell'Arce Diocesi di Catania in occasione delle ultime elezioni politiche regionali che ha suscitato in tanti cattolici presenti nei diversi segmenti della società l'esigenza di essere parte attiva nell'edificazione del bene comune. I firmatari del documento hanno voluto dare continuità all'impegno intrapreso promuovendo il seminario che vivrà momenti pubblici alternati a momenti online da sabato 10 dicembre a sabato 6 maggio. L'avvio con il tema le povertà e le periferie e prospettive di sviluppo del sud e del paese con Leonardo Becchietti, ordinario di economia politica all'Università di Roma, Tor Vergata. La chiusura fra sei mesi nell'aula magna dell'Università degli Studi di Catania con il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. L'intervento di Becchietti verrà preceduto dai saluti dell'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, e dal commissario straordinario del comune di Catania, Federico Portoghese. L'introduzione è affidata all'ex prefetto di Catania, Claudio San Martino, la conduzione dei lavori al giornalista Giuseppe Di Fazio. Becchietti, autore di oltre 550 lavori di ricerca, da tempo sottolinea la necessità di cambiare radicalmente modello produttivo e sposare il modello circolare che metta fine alla distruzione delle risorse naturali e all'emissione di CO2. Per conseguire il nuovo modello, secondo il docente di Tor Vergata, non è necessaria solamente l'imposizione dall'alto, ma anche e soprattutto un'etica della responsabilità che veda protagonisti i cittadini, le imprese e le istituzioni.